Il 2022 sarà un anno dalle grandi innovazioni per Retebiella. Molte le novità in arrivo nei prossimi mesi. Il primo del nuovo corso è stata la creazione del nuovo logo, di immediato riconoscimento. L'intento è stato quello di creare qualcosa di nuovo, ma al tempo stesso fedele all'originale. E da oggi cambia anche la sigla, una veste grafica completamente rinnovata, pensata per proporre un'informazione sempre più diretta, immediata e accessibile, quella firmata da Luca Gasparello. Parallelamente è in corso la rivisitazione del sito, i profili social su YouTube, Facebook e Instagram. Fervono anche i lavori nella zona informatica, dove i tecnici stanno finendo di sviluppare apposite app dedicate per le vostre smart TV. Una è già disponibile su Google Play Store, per le smart TV che utilizzano Android come sistema operativo. Vogliamo essere sempre più l'emittente vicino alla gente, che comunica attraverso immagini e parole non gridate. La nostra identità è sempre proiettata verso un futuro che deve guardare il presente. Il futuro significa guardare anche al digitale. Sito, social, app, sono tutti strumenti che mettiamo a servizio dell'interazione con i nostri telespettatori, che rispettiamo profondamente. Grazie a tutti.